Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per lavori in direzione Bologna ci sono 4 km di coda tra il Vivio per la 11 e il Vivio per la variante di Valico. Ancora in direzione Bologna segnaliamo che l'area di servizio di Badia Alpino Est è sprovvista di benzina per un guasto all'impianto. In direzione Roma fare attenzione per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. La viabilità cittadina a Firenze in via Bolognese per lavori proseguono le modifiche alla viabilità. Puoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!